E così, ancora, bello alto, sembra che così, proprio, ancora, e così, è libero, capito? Uno, due, ok, bene, così, no, questo, se sei naturale, ti viene spuntato, quindi il giro, guarda, uno, fermi, guarda, due, ok, tra l'altro è un modo di farlo, perché in genere è fatto così, però c'è qualcuno che vuole fare proprio così, ok, vai, ok, lo svegliamo? No, 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 perché cos'è fai, te fai, guarda, e invece, ah, uia, così, eh, ma meglio ancora questo qui, vai, questo, quindi sempre sì, però fai con questo, ok, da destra, sì, con la sinistra, Tieni su, e tanti con la posta, sì, puoi anche farlo così, vai, così, è 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 così, però si può fare in tanti modi, Spesso, spesso, fai con la posta, vai, e fai con lì, ti affermi, ti tiri, e che poi è pom, infatti, pom, è in palo, anche quella, oppure, più semplice, vai, uno, due, tre, vai, uno, due, vai, così, lascialo sopra, così impari a che cosa serve. Andiamo, quindi attacchi di retto, scusa Paolo, uno, due, tre, così, quando il primo salto mi tocca qualcosa. Prima, allora, uno, due, tre, così, questo funziona su un attacco medio, più che all'inizio. Ti dici e fai subito questo. Ok, fai, ti amo, ti amo. Uno, ti dici, suona, finito, così. Ok, questo non è stile, c'è forza, è da te ritorno. Perfetto.